format allora ragazzi lo presento, lui è Bove, è un esperto di giochi da tavolo, di wrestling e di napoletani c'è la barba blu, no in realtà non c'è più la barba, c'è i capelli blu, no verdi, 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 verde acqua e a quanto pare là sotto sta facendo i compiti delle vacanze, quelli che ti danno durante le vacanze estive ma io per piacere, mi confermate che Dico si sente? Sto a fare i compiti delle vacanze, vedi? ecco qua, fatto, ti sento anch'io che sono i compiti delle vacanze? che c'è sotto la faccia eh sì, eh sì, che mi hanno detto che adesso si fanno ad agosto, non si fanno più a settembre perché cazzo stai a dire? la nuova riforma del governo Meloni vuole che i compiti delle vacanze tu ti attacchi al cazzo ad agosto appena riesce a scuola e non li fai qui a settembre per i recuperi degli esami aspetta, 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 fermo, mi stai pigliando per il culo Diego, ti ho mai preso per il culo nella mia vita cioè, a parte quando ti prendo per il culo davvero, però sì, ti ho mai preso per il culo no, ma siete seri, regà, è vero scuola aperta in agosto scusa, si torna a scuola d'agosto? eh, bella Max ma no, è vero, ti sei rasato tutto, oh mio Dio è andato ma questo è un caso che scuola che è sto tizio? mi sono, mi sono, sono Mjorsax mi sono inserito qua a caso Max, hai fatto bene, fa un caldo ma non so se c'hai un po' più stavo malissimo e poi avevo proprio voglia di tagliare tutto dopo la vacanza in Islanda e la febbre ho detto forse è ora di congedare tutto e vado là ma fa caldo lo stesso, comunque, pure con la barba come ce l'hai te io ho dovuto tagliare tutto è che la barba come ce l'hai te non fa caldo, Diego io non ho più la barba Diego, anche te hai fatto un rasatone però in compenso è, altissimo no, regà, cioè, io adesso capisco l'uomo di Netherland quanto cazzo ti credo che andava in giro con l'era glaciale mezzo nudo cioè, i peli veramente fanno caldo mannaggia la morta, sta cosa matta proprio oh, ma non ci si crede come ti senti, come ti senti Boves, l'ultimo rimasto cioè, l'unico che non dobbiamo cambiare nel logo adesso te lo scontate sei te allora, è vero, però considerate che in realtà tra tutti e tre o quattro poi arriva Niko con la barba adesso sì no, però considerate che sono il primo quartale della barba di tutti e tre cioè, lo so che non si direbbe però Florinda a me la barba arrivava qua io ho notato che avevi snippato un pochino Florinda mi ha preso la barba ha preso le forbici l'ha tagliata dritta l'ha fatta apposta o per scherzare? allora, diciamo che io le avevo promesso che dopo Modena Play a maggio avrei tagliato la barba è luglio diciamo che questa promessa è un po' a mal retto però diciamo che io sono arrivato a una eh sì, è inciampata proprio con le forbici e poi è ritornata a rinciamparci e poi ci è ritornata a inciampare e il fatto è che io non riesco cioè questa maschera qua purtroppo a me mi protegge, capito? io riesco a sopravvivere agli occhi cattivi della gente io quando mi ha tagliato la barba c'era un pischiello romano classico che stava lì a aspettare al turno suo che mi fissava a mettere in metà perché c'era tutta la barba, no? sì, sì secondo me non se l'aspettava che me la sarei fatta tagliata tutta vabbè, mi ha tagliato pure la gola mi è uscito il litro di sangue non ha fatto, non ha detto niente un caciga sì, sì, è uscito il tuo sangue però lui non mi è fregato un cazzo stavo con una macchia di sangue qua enorme vabbè sì, esatto, dico cosa quelle cazzo di forbici? stesse malattie che ci avete in mano queste armi bianche no, ma le forbici queste cose sono della Tamiglia ah sì, mica ciao tra l'altro devo andare con Federica dobbiamo andare da Gianni in modellismo devo comprare un po' di tools per montare questa cazzo di cosa perché è impossibile da montare sennò come faccio a fare il performa scusa Diego ma è quella che hai fottuto perché hai staccato tutto e poi non avevi più le istruzioni non potevi più seguirle no, 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 no questa qua l'ho comprata a Romics e l'ho regalata a Federica questa è quella roba di MTF, no? di quel legnetto becero tipo mezzo puzzle che devi montare qua dice Cina sì quello non è un materiale manufacturer Xiamen Gowin Technologies grandi, grandi sì, i più forti sono quelli che fanno tipo il 95% è scritto qua in piccolissimo sì non è picco però praticamente loro ti danno no, ma è cascato un pesce fermi, fermi cascato un pesce no, fottuto posso ricomprare tutto allora io chiederei ai signori del Romics che hanno venduto sta cosa a Diego di mandargene uno nuovo ma perché poi col pesce? che c'è il secco? ti danno l'obiettivo di merda da attaccare in maniera millimetrica con i pescettini eh sì perché la colla non sono non è legale mettertela cioè la colla per legge dentro là non te lo possono mettere perché? la gente sta a sniff cioè sta veramente cioè là dentro si compra i giochi tipo i puzzle per sniffarsi la colla e drogarsi e quindi non possono ma la puoi comprare tranquillamente al negozio la colla da sniffare però so cazzi tu loro se ne lavano le mani cioè da questo punto di vista loro so ma perché sì ma poi che vuol dire sniffare la colla scusate? eh a quanto pare ti dà delle botte non lo so dà delle belle botte la colla a quanto pare quella in particolare da miniature da puzzle non lo so esatto diciamo che i fumi delle colle presi a a Tirana non è che ne sappia niente a Tirana anche no eh in realtà qua lo dice non lo consiglia di comprare la colla dice se volete fare un lavoro fatto bene però comprate la colla lo dice certo perché loro ti dicono che ovviamente il modellismo si fa con la colla noi non te la diamo su cazzi tua loro ti dicono questi sono i tool base mettiamo questo bellissimo millimetrico ma c'hai pure gli orecchini Max sì sì ma li ho sempre avuti in realtà solo che oggi ma sono nascosti eh ma io ho le cuffie di solito che non si vedono è un figo Max solo che no ma perché coincide pure questa cosa che non si vede eh sì lo so solo che non esco di casa è quel problema eh come il 95% dei nerd voglio dire no non è vero ma scusa quando non c'erano i videogiochi la gente di nerd uscivano guarda ti posso assicurare che quando io giocavo di ruolo per uscire uscivo per andare a giocare eh comunque uscivi sì 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 comunque però non ricordo effettivamente un periodo veramente senza videogiochi nella mia vita sarà che mio padre lavorava in Olivetti quando ero piccolo e quindi il computer a casa dai tre anni in su l'ho sempre avuto io già ricordo che toccavo mio padre era Olivetti lavorava in Olivetti ah pensavo era no era proprio il signor Olivetti il signore minchia il miliardario eh si andava in sala giochi pure ti fumavi le bombette fuori la sala giochi mia mamma non mi faceva andare in sala giochi perché diceva oh Massimo guarda lì come si scambia la droga c'è brutta gente certo mi comprarono penso il Super Nintendo proprio per evitare che io dicesse tipo voglio andare a giocare a Killer Instinct che dicevano no c'è brutta gente Max non andare lì quindi per lasciarmi a casa mi hanno fatto così per evitare di drogarmi come le persone normali al mondo e niente sono un nerdy merda praticamente sei drogato di altro esatto esatto ma davvero davvero vuoi entrare nel server di vampiri sì 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 ho già parlato con Ciuffo che è una staffer e con il founder e mi sa che mi farò qualche ruolata ne sentivo proprio il bisogno che è da tantissimo che non ruolo quindi volevo non entrerò perché io non è che voglio entrare con l'intento di far serio capito ho sentito che volevate entrare un po' a gamba tesa a fare casino sì ma perché non sapevo fosse di ci fosse pure Ciuffo e altre persone a noi conosciute pensavo fosse di Lucas e Lucas insomma è un role player era un grande role player di GTA però qualche ruolatina Diego ma anche Bovena a me piacerebbe non dico allora non ho l'utopia non ho l'utopia di dire facciamo eh lo so ma ancora di più shitposting su quella roba cioè non ho l'utopia di dire rifacciamo una seconda golden age di GTA RP però proviamoci facciamo anche un bel revivalone ci divertiamo male che va ci facciamo una settimanina e poi ci siamo roti il cazzo e poi facciamo altro spiegate un po' c'è nel senso vampiri vampiri di masquerade allora l'ambientazione da quello che ho capito è una via di mezzo tra un post apocalittico survival quindi c'è stata un'invasione zombie però c'è una bella spalmata di world of darkness sopra quindi ci sono vampiri licantropi maghi o gente insomma un po' in scimmia world of darkness è un po' una via di mezzo così rispetto al GTA RP normale che invece ah quindi comunque GTA si su 5M quindi è uno dei tanti server con script apposta per fare per aggiungere le dinamiche in più esatto ho visto il lupo mannaro che saltava per la mappa si credo che ognuno abbia i propri poteri le proprie magie le proprie cose ci sono le dinamiche di gruppi quindi ovviamente ma ci sono vampiri anche no? ci sono anche vampiri e che fanno succhiano ma ci sono anche gli esseri umani eh gli umani credo che siano il succhiamento quindi c'è proprio dinamiche tra i vari gruppi quindi gli umani sono un po' il bestiame per i vampiri ma chi lo vuole fare l'umano? non so forse magari ci sarà qualche modo qualche inghippo so che bene o male gli umani possono essere anche potenti oppure magari vuole fare il civile vuole ruolare basta bisognerà vedere perché poi da fuori so spizziche i bocconi ovviamente solo entrando a ruolare che poi inizia a capire un po' quali sono le dinamiche in giro ciao Nico ciao Nico buonasera scusate il ritardo buonasera no però è la mia soundboard buonasera questo qua è la è il suono che dice buonasera come andiamo? ciao Nico no quindi ci sono i licantropi ci sono i vampiri gli umani gli umani credo abbiano delle robe anche potenziamenti stile magia oppure addirittura sono fuori contesto io sono arrivato e vi state dire beh ci sono i licantropi i vampiri stavo parlando Nico di un server rp italiano si chiama Rivia ma ce ne sono anche altri da quello che so ma di GTA GTA ok perfetto però con tutti i custom script e ambientazioni e mapping diverso hanno cercato di dare una via di mezzo tra una specie di roba post apocalittica e world of darkness quindi vampiri il canto un po' di tutto ok rinnovare un po' la cosa io probabilmente andrò un po' a giocarsi un pochino stavo vedendo tastando il terreno se avete voglia anche di partecipare voi perché poi sarebbe bello fare una bella roba in compagnia giocarci eh sarebbe divertente purtroppo come sapete non ho i mezzi probabilmente vero bisognerò provare però secondo me alla fine GTA è un gioco abbastanza vecchioto ormai forse regge vediamo sì sì vediamo ma invece io vorrei entrare nel server di di Luke perché? a parte che ogni volta che vedo sono in riunione e sono tutti così tutte le live che ho visto sono sempre così in riunione devono fare i grossi delle gang cazzo devono parlare tra di loro si 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 nessuno dice biv voglio vedere se mi diego che che personaggio vorresti fare quindi che cosa come vorresti entrare cosa vorresti fare come vorresti ruolartela una situazione del genere ma dici su quale server però beh quello che stai dicendo te adesso quello di Luke allora non ho ancora idea però vorrei fare un personaggio in realtà con la voce mia o magari una piccola vocina impostata stupida si un po' un po' coatto ok vorrei fare una gang così una gangettina stupida romana la voce da coatto romano data così no è la mia voce ah fai proprio la tua voce non fai eh lo vedi potresti flexare in questo momento Diego la voce di furio che era quella più romana incazzata che avevi vai a sparare ma no dai non mi riesce non c'è mai la webcam vergogniamo un botto tappa un secondo e fai la voce ti vergogni a fare la voce e con la cam si si esatto ah ok ok come fai non la posso grazie ah analogica tappa così ah dici così vai vai bella raga come state zambugone molinari eh zambaglio lo zambaglione curativo eh lo zambaglione curativo sì 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 oppure faccio il food blogger il food pornaro che ben giropagica bella a ricensi i posti questa è bella questa è ma immagino ma immagino in un contesto post apocalittico che ti risveglia a caso e te sei ancora un food bloggero e vai in giro però se sei un food bloggero però se sei un food bloggero però se sei un food bloggero vedi un cristiano e dici oh porca troia oggi il sangue è proprio buono di questo vediamo se ne troviamo è bellissimo merda il food bloggero vampiro è bellissimo ma invitateci i caloni a giocare qualche gdr eh no non credo ma è un problema in realtà nel server quello con i vampiri i licantropi volevo no volevo fare un personaggio tifosissimo della Roma che è appunto l'ubacchiotto ah certo è il licantropo tifoso della Roma voglio entrare tra i lupacchiotti beh vabbè è una cosa super cringe così però se lo vieni a prendere non va bene ecco però è vero che se qualcuno ti sente dire pure forza Roma perché sei il licantropo secondo me beh sono lupacchiotto oh vedi questa cosa che questa clip è decontestualizzata ti ha settato ma no ma no sono troppe clip decontestualizzate lasciamo perdere che hai detto ma ma solo a me fanno cringiare i vampiri allora zni ma in che senso cioè il vampiro come creatura in generale anche pre i vari twilight sì anche anche pre twilight già prima che venissero infighettati e impomattati ma sono sempre stati infighettati cioè se pensi a quei vampiri quelli molto barbaroni occhi gotici no con quei con quei baberi enormi cioè pensano sferato e dracula quelli sono proprio i classici nobili decaduti della storia dell'umanità c'è sempre stata forse un po' di fighetteria di barato un po' di brutta con la light ha rovinato tutto vabbè l'ha fatto diventare dei tiktoker praticamente pure i baffi ma non penso l'abbia fatto diventare semplicemente ha detto ok ci sono anche i vampiri in questo modo però ragazzi anche i vampiri di baffi le bazzavampiri cioè c'erano dei ghost delle discoteche notturne con la fronte un po' più grossa quelli dei blade non stai blade era parecchio cringe blade era era figo blade era cazzutissimo boh c'è capito perché i vampiri hanno quelle estetiche lì c'è l'estetica classico nobile della transilvania comunque quindi quei mantelloni vestiti da nobile oppure c'è oppure c'è esatto oppure c'è il vampiro goth che è quello tipo vestito di pelle col cappottone lungo di neo di matrix capito cioè boh ma e beh scusa allora i licantropi voi dite sono cazzuti ti piacciono ma c'è il licantropo di più perché comunque è dire è un essere umano che però contro la sua volontà si trasforma in in una creatura una bestia primordiale che non controlla più i suoi istinti il vampiro boh cioè cazzo è non può stare la luce nel sole boh devo dire che i vampiri me l'hanno fatto un po' recuperare mi sembra piaciuto world of darkness cioè quindi masquerade e tutta quell'ambientazione lì non lo so c'era qualcosa che mi piaceva forse era anche un po' tutti i clan le varie divisioni c'erano quelli un po' più incazzati gli anarchici i malcavian pazzi c'aveva quel fascio a me è sempre un po' piaciuto anche rispetto alle altre di world of darkness mi è piaciuto ci ho ruolato molto poco perché ho sempre avuto pochi gruppi che volevano fare quello e eravamo più sul fantasy mi piace diciamo non è che li adoro in generale in tutti i media possibili però ci sono alcune cose che mi sono piaciute una è proprio vampiri la cosa più vicina a vampiri forse era intervista con vampiro mi viene da pensare come cosa con Johnny Depp e Brad Pitt c'era Brad Pitt Tom Cruise Tom Cruise c'era poi si chiama l'attrice che era giovanissima che faceva la bambina quella che ha fatto anche melancolia mi pare ah Mary Jane sì Mary Jane esatto esatto che era proprio piccolina è vero la pop avrà avuto tipo 14 anni 13 anni pure di meno però vabbè a livello di cose cringe di esseri cringe e poi vampiri no cioè sì vabbè sono un po' tiktoker un po' un po' astorogati i ligand sono più disumani sì sono più è il troppo del vampiro che non mi dice niente non mi parla solo quei non ce ne stanno altri che te gringiano di questo filone qua sì di creature di Hollywood allora pure gli elfi dovrebbero stare sul cazzo eh sì gli elfi di Hollywood non gli elfi no perché gli elfi di Hollywood stanno in un mondo fantasy in un contesto dove loro hanno senso i vampiri stanno nella stanno nella nostra società sono tutti super enti sempre come? sono tutti super enti ho dato una porra a terra come è sì però ho capito ma loro stanno in un contesto di fantasia stanno in un contesto in un mondo dove hanno sono così no no ho capito che intendi i vampiri cioè dici ah il vampiro potrebbe essere tu ma che capisci no? beh è quello essi vivono tu mamma e vampiro certo cioè non mi non mi parla questa cosa no non era Alessandra Mastonardi cioè per l'attrice che faceva ma vogliamo parlare di Abramo Lincoln ammazza vampiri ma perché vogliamo parlare di Gesù Cristo ammazza vampiri quello era un gran film non l'ho mai visto quel film non ne hanno parlato bene diciamo che non ne hanno parlato probabilmente ma è un capolavoro assoluto come si chiama l'altro Van Persi Van Helsing Van Helsing Van Helsing è un famoso cacciatore di vampiri si però ci hanno fatto un film una decina di anni fa il calciatore orlandese Van Helsing si 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 ci hanno fatto un film una decina di anni fa che era una cosa oscena oscena c'era Kate Baggins e le c'era lui che era tra l'altro fortissimo Wolverine vabbè ormai ricordato solo come ecco da sci ovviamente fissato con quelle stronzate Allora per me Hugh Jackman può morire parliamoci chiaro se non lo ricordo tutti possono morire sì no no tutti dobbiamo morire siamo d'accordo però dico Hugh Jackman non è un aiuto all'umanità cioè non ha dato niente non sta portando niente di buono ma c'è qualche cosa in particolare qualche intervista che ha fatto che ha dato il rigerato diciamo che essere australiano come come character non è l'attore cioè non puoi rendere l'australianità il tuo tutta la tua personalità la tua identità ovecata Cox sì pure però cioè quella roba là non ci arrivo cioè io veramente non ho mai visto qualcosa di bello fatto da Hugh Jackman dai l'ha fatto ha fatto quello là The Prisoners Prisoners è carino quello dove c'è stata dove gli rapiscono il figlio come pare una figlia o era lui stesso mi ricordo no era un figlio e lui cerca di ritrovare un film coppissimo super tetro super creepy Prisoners sai a me invece chi fa incazzare appena lo vedo da qualche parte dico non lo vedrò mai non ti è piaciuto? ma come rovinare Nolan è arrivato Hugh Jackman e rompe il cazzo comunque comunque bove ha lo stesso identico rapporto con Hugh Jackman che io ho con Jason Momoa Jason Momoa ovunque lo metti a me mi fa incazzare non voglio vedere il film cioè anche però io tipo ho una storia non direttamente con Jason Momoa hai fatto a morte con Momoa mi ha lasciato mi ha lasciato non è cattivo capito non è né cattivo è un cioè c'ha la l'attitude da cattivo però è realtà un buonaccione quindi non è falto ecco però non è cattivo non è cattivo non so che cos'è Momoa si è creato un nemico per tutta la vita con me in un'intervista dicendo dicendo tipo gli stavano facendo un'intervista nel periodo che lui fece il remake di Conan una cagata abominevole Conan il primo è uno dei miei film preferiti quindi il remake per me era proprio delitto e disse e qualcosa non ho visto il remake della cosa però quello non l'ho visto no è merda non è assolutamente come il primo quello originale eh vabbè l'originale è una bomba infatti vabbè comunque nell'intervista uno gli chiese dato che era anche periodo Cal Drogo sulla scia della della sua fama che stava facendo con Cal Drogo in Game of Thrones disse l'intervistatore chiese ma secondo te tra Cal Drogo e Conan chi vincerebbe in un duello e Jason Momoa disse secondo me Cal Drogo è molto più forte di Conan voglio dire cioè molto più figo sicuramente vincere e io in quel momento ero proprio davanti alla scrivania che caccia di merda non si può fare come un avvento e non hai letto niente mannaggia la miseria a parte con i dei non graziani e invece quelle mode io incazzatissimo e da quel momento io Jason Momoa l'odio ma lo tira tira l'acqua su mulino è normale cioè è il suo personaggio è ma pure Conan è stato il suo però che altro che quello che l'ha lanciato cioè nel senso il fatto che si chiamava Lisabonet e io su questo è un'altra cosa per cui lo odio ma va bene così Lisabonet perché non lo sapesse è la figlia dei Robinson nella serie la rob dei Robinson non mi ricordo è stato l'amore della mia vita Lisabonet quando se l'è presa andiamo a cercare Lisabonet vai l'hai visto Andrea a me mi è stato sul cazzo quelli in chat che capiscono che hai detto una stronzata e ti devono andare a trovare tipo Andrea tipo Elon Madonna che hai detto sentiamo sentiamo non so che Momo avesse fatto Conan Conan lo ho messo osservato in carcio d'angolo poi a proposito di coppie ho scoperto recentemente che il mio padre reputativo Gio Manganiello si è lasciato da quella strafiga di Sofia Vergara ma chi è Gio Manganiello come chi è Gio Manganiello l'ho già sentito l'ho sentito ma non me lo ricordi va vedi Sofia Vergara ce l'hai presente però ah Gio Manganiello è un madonna che cringione lui è più forte di tutti ma non aveva fatto anche non aveva anche faceva il ligantro dentro quella serie di merda super cringe true blood ah si non lo so non lo ricordo perché era tipo il ligantro uscito fuori da beautiful ti hai immagini tu il ligantro contro beautiful lui è fissatissimo col gioco di ruolo oltretutto non aveva non aveva partecipato anche a critical role critical role qualcosa insieme a Vin Diesel e pochi altri è tipo il VIP dei giochi di ruolo in America e quest'anno in Italia è il capo dell'area games della parte GDR l'hanno invitato a tenere quindi giocherete se volete giocherete di ruolo con Gio Manganiello purtroppo non porterà Sofia Vergara però purtroppo no si sono mollati sono in fase di divorzio dobbiamo rompere il cazzo a De Gobbi tra l'altro in una in una in una foto assomi Andrea Lucchetta Gio Manganiello uguale 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 se guardi Andrea Lucchetta è identico il naso lo stesso i capelli è uguale Lucchetta è alto l'hai fatto per lavoro ma ti rendi conto che sei più uguale tu a Lucchetta che Manganiello è palese dagli infine a dopo si sentiva oppressa dal marito è meno oppressa ahia vabbè Manganiello no non penso sia quello quando sono venuto mi scambio spesso per Gio Manganiello non credo che succeda questa cosa qua ci sta ci sta no Sofia Vergara non viene alla maratona di settembre non vi preoccupate non c'è questo rischio no aspetta devo cancellare la mail quindi vabbè no non ci sarà Sofia Vergara purtroppo non ci sarà non ci sarà non ci sarà ma quanti scusa nel mondo dello spettacolo quanti sono i fissatissimi con queste cose qui super nerd tipo vabbè ma è pieno Vin Diesel sicuramente diresti che Vin Diesel è un fissato di Legends of Dragons ha dato però ha dato il voto a Ark tipo Ark 2 anche se hanno gringiato quel trailer che mi ricordo che uscì che c'era Vin Diesel a caso in CGI è stato meraviglioso mamma mia Vin Diesel si è approcciato alla recitazione grazie a D&D ma che sei a D&D sì mentre ruolava con gli amici è andato a fa no è detto si è reso conto che era portato ad interpretare dei personaggi e si è approcciato alla recitazione I am Groot non si fa solo quello Cavill come dice la chat dovrebbe essere anche lui un super nerd ma perché fa più effetto perché dici boi questa è un cattore che passa le ore in palestra figurati se è un fissato di cose nerd e invece sì e invece su secondo me anche Ryan Gosling lo sai no secondo me no sai chi è anche fissate di cani Reeves cani Reeves si dai un nerdone può essere Alberto giocava a Magic sei proprio stupido Andrea è una delle cose più belle che abbiamo sentito negli ultimi 12 anni sì Fellini era super appassionato ha fatto e fatto il film anche Big Show ha fatto qualche roll ecco io stavo cercando appunto era Big Show giusto sì sì ma ti immagini Big Show su una sedia piccolissima con tutte le carte così ecco il corpo che esce fuori dalla sediolina che c'hai c'è il gatto che vi saluta no non è Big Show anzi è particolarmente piccolo questo show no però mi fa strano che ci siano nel mondo dello spettacolo tutti questi figoni assurdi io sono super fissato ovviamente con gli stereotipi quindi non mi immagino dei chi strafigoni che poi vanno lì a giocare a carte si mettono lì con le carte con le amichetti ma dai su magari pure Danny DeVito è fissato ma nessuno non lo sa perché non fa effetto perché dici proprio lo stereotipo dici eh Danny DeVito con quegli occhiali spielato ma è più interessante Danny DeVito ha passato di powerlifting non lo so esatto si si stacchi da 300 kg allora pure come si chiama quello che ha ha vinto il corso di Nanni no Belushi no San Gemi che ha vinto il corso di Nanni che vuoi dire ah perché oggi Nanni ha fatto la gara lì con le che è l'uomo più bello del mondo secondo me ha fatto il bracketing con l'uomo più bello del mondo ok si e ha vinto quello che cavalcava la bomba atomica in Armageddon quello che ha fatto Boardwalk Empire dai eh si ho capito Buscemi Buscemi grande sì il Buscemi mi ricordo che c'era un'intera pagina Facebook che era tipo pulcini con gli occhi di Steve Buscemi sopra incollavano gli occhi di Steve Buscemi su ogni creatura possibile della meravigliosa comunque ho visto il film di Dungeons & Dragons ah l'ultimo allora domanda tu l'hai visto tu l'hai visto l'hai visto in chiaro dove in maniera no l'ho comprato l'ho nonneggiato 4 euro su dai e non lo devo comprare io ancora non sono riuscito a vedere ma carino sinceramente ultimamente mi sto recuperando un po' dei film mi sono visto We Home mi sono visto John Wick 4 questo qua ma boh sti cazzi sti film di merda parlami di T&D ma boh ma com'è divertente perché io ho sentito l'opinione altalenante allora tutti ovviamente preparati al cagatone tipo è scontatissimo quello originale scontatissimo ok ma boh ma ti sembrano un film è un film per famiglia cioè nel senso non è che ah per carità di Dio si cioè fra se guardi gli Avengers e non è scontato alcune cose no ok non lo vedo convinto perché c'è uno sviluppo dei personaggi profondo immagino vabbè quello che succede nell'ultimo Avengers non mi pareva così scontato io non lo sapevo a parte i bambini che l'hanno spoilerato in quale Avengers scusami quello dove muore Iron Man ah ok ah dici quello è il il finale il colpo di scienza anche il fratello dei Vanna Marchi lì come si chiama Ivan Marchi si chiama Quicksilver la con le cose velocissime eh certe cose non te l'aspetti che morono si ma morire è un percorso della vita non è quello che fa interessante un film ma perché mi hai messo si ma perché mi ha messo sul piatto gli Avengers i cazzi degli supereroi dicevo da come ne hanno parlato non penso nessuno abbia mai incensato così tanto è stupendo incredibile non pensavo fosse una puttanata invece è incredibile ma di D&D stai parlando si adesso è un filmettino te lo guardi sicuramente non vale anche 4 euro del nolleggio vale aspetta 4 mesi prima che esce in chiaro esce su Paramount Plus porca troia sono 9 euro al mese un sacco di gente non chi un sacco di gente voglio i nomi Victor Lazio mi aveva detto ma ma che lì però però Diego vogliamoci bene capiamoci ma perché vogliono tutti Victor Lazio no 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 ma niente contro Victor Lazio però diciamo che anche molte volte alcune cose a me fa fare pure cioè ci sono delle cose che sono diverse cioè chi fa questo di mestiere è probabilmente molto casato per alcune cose e molto meno casato per altre no cioè tu se giochi a raft ti innamori come se fosse il gioco più bello dell'universo è una merda Dave the Diver mediocre cioè hai capito ancora non l'ho fatto però hai capito cioè Dave the Diver probabilmente oh bellissimo io mi sto preoccupando ultimamente regà perché secondo me mi sto invecchiando e invece di togliermi l'edgismo e apprezzare tutte le merdate che trasmettono sto diventando sempre più vecchio si sto diventando sempre più signor Barnes sempre più odio quello non mi piace vaffanculo film di merda che schifo secondo me è giusto così però è parte del cinismo e dell'amarezza che va avanti col cosmo a mano a mano che andiamo avanti noi con l'età poi piano piano inizia a dire sono tutti extracomunitari ci rubano la cosa la cosa di Skinner sono io che sbaglio no sono i bambini che non capiscono un cazzo è quello secondo me è un processo naturale delle cose arriveremo i bumerasciche vado a cercare ho visto c'è un week sono dovuto andare a cercare tutte le stronzatine che non mi convincevano tipo il fatto che non fa nemmeno un headshot in tutto il film i miei primi tre fa sempre headshot in questo non spara in testa a nessuno se no non funzionava il film ovviamente ammazzava tutto e finiva in tre ore dei film dove spara addosso alla gente invece di spara in testa questa cosa mi ha fatto rosicà in a no way home mi ha fatto rosicà un botto di roba in tutto sono da preso cose così no way home è il terzo di spiderman giusto si è il terzo l'ultimo è carino per carità è carinissimo vi do vi do un super test per capire quanto il vostro livello di bumeranza è alto perché hai fatto un aigau penso che questa cosa ti faccia meno vecchio no è il buon diego forse me lo diego non l'ho visto no non è un aigau sento un gatto è il mio l'ultimate test per capire quanto boomer siete e guardarvi il fenomeno dell'internet delle ultime settimane che è schibi di toilet avete visto voi qualcosa di schibi di toilet non so tipo schibi di toilet sono degli short credo su tiktok no forse su youtube sono degli short di qualche secondo che sono sostanzialmente delle robe gmod come le robe tipo le animazioni fatte su gmod vedo che la chat si sta già incazzando infatti perché ma perché se cazzo no che cos'è schibi di mo schibi di toilet tipo cesso schibi di sostanzialmente è la formula gmod però un po' tiktokata perché c'è la canzone il meme quello di schibi di yes yes come cazzo fanno ah i big i little big bravo bravo però unito a questi short dove ci sono molto assurdo si canta roba robot versus successi con le teste bravo bravo guardatevi quante visualizzazioni all'ultimo episodio schibi di toilet che credo sia il 51 il 52 12 milioni ecco un milione allora ma perché fanno tutte queste visual e allora dovremmo analizzare 109 milioni di visual schibi di dovremmo analizzarlo assieme come fenomeno per come parte e come si evolve perché parte con una roba randomica con la canzoncina ci sono le teste che escono dai cessi che fanno facce assurde un po' surreale vabbò e diventa una roba tipo che la gente ci ha creato la lore con i personaggi diventa una roba che se vedete l'ultimo episodio sembra il tipo pacific ring cioè eccessi che invadono la terra e si vanno a menare con della gente questo in base a quanto lo capiamo e non lo capiamo secondo me è il test finale per capire il nostro grado di boomeranza o meno io ti dico la verità è ovvio che se me lo paro davanti mi fermo e dico ma che cazzo è rido come un cretino però dopo due volte mi rompo il cazzo palese cioè proprio palese ma io considero che quando passo su Instagram ci stanno delle cose base che non capisco ci sono dei meme attuali che non capisco cioè io ormai non riesco a capire manco più i meme fritti come ti dico questa serie mi ha curato la mia depressione 47.000 commenti 23.000 like a sto commento 488 sono iperattivi poi è diventata una roba cioè ci sono stanno venendo fuori i video sabacu non di sabacu ma stile sabacu di lore di esplorazione ho visto i video di gente che fa tipo la scala dei cessi con le teste dentro stile Attack on Titan per capire per vedere la scala esatto esatto c'è un altro fenomeno che fatico a capire è quello delle stream di NPC che l'ho visto non so se ve l'avete mai visto gang con il con il coso capelli che fai sono persone su TikTok che interagiscono con il pubblico come se fossero degli NPC di un videogioco quindi con le frasi preprogrammate e ci sono le donazioni su TikTok e quindi tipo fai la donazione da un centesimo dico ciao e i punti che arrivano alla raffica che si fanno ciao ciao sempre con la stessa situazione imitano anche un po' come si chiama le animazioni le animazioni tipo che si muove sempre da stessa maniera è inquitantissimo da vedersi cioè fanno sempre i stessi gesti fanno sempre le stesse però quella cosa la già la capisco di più io no però e nel mondo in cui nel mondo in cui siamo oggi dove vengono pagati i cristiani per scriversi i nomi addosso che è per segarsi esatto il punto è quello il punto è quello perché quello è ovviamente per segarsi ok l'SMR il pull stream amore è ovvio che è per segarsi perché altrimenti non metterebbero lo schermo fermo per 20 minuti con scritto vado a cambiarmi un bichini più piccolo io mi immagino i tizi con l'uccello in mano che aspettano che torni da quella pausa interminabile io non fatico a immaginarmi lasciati appesi così poveracci vado a cambiarmi no no ma si roeggiare per un'ora e poi lascia la pubblicità con power che dice ah ecco ciò con crema esce già con quello ah sto giocando alla playstation 5 ma non riesco a superare questa missione cosa vuol dire che stai giocando alla playstation 5 stai giocando a un gioco sto facendo la missione ma è facilissima vengo qua buono esatto comunque a parte quello io capisci che è quello per segarsi questo è un bravo grazie a vederci cioè veramente devi fare uno sforzo enorme cioè se puoi segarti su quella roba ti puoi segare su boh sullo sgrassatore copp questa roba qua su tutto con lo sgrassatore copp ci sei e via è bravo a parte lo sgrassatore secondo me fa un malissimo sì 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 dovrebbe essere grassatore nessuno si prende la rivestera cosa vuol dire quel simbolo del quadrato rosso vuol dire che lo verifica bene probabilmente proprio il cazzo non ce lo puoi mettere il cazzo perché c'è lo sgrassatore di fianco al computer non fa domande voleva giocare stasera stavo guardando una stream di una di un NPC ma poi ecco spiegatemi perché allora dovete dirmi specificatamente perché tira di più una tipa che si sta cambiando quel porco 2 di bighini di merda piuttosto che andare su Pornhub e vederla completamente nuda dal mio punto personale non capisco perché anzi sto andando sempre peggio nei fetish cioè io se non provo quando la voglio vedere mentre si fa cacare in bocca sì esatto appeso al soffitto mentre viene frusso sta diventando sempre progressivamente peggio mentre va chi vi di bobo bobo chi vi di giuro io mi ricordo vent'anni fa che bastava Eva 3000 turco corbuzo bastava cazzo Eva 3000 che vedevi il cappetto di come si chiama l'area marini 4 pixel più marroni adesso invece è proprio ancora di più cioè sempre peggio quindi non capisco effettivamente come un bighini è basta ma basta io penso che ci sia comunque un abandonamento proprio dall'assesso quello che è il sesso inteso è quello che ti fa godere di queste cose vedo o non vedo allora Eagleman dice una cosa intelligente una volta nella sua vita è il rapporto parasociale con lo streamer cioè perché è fra i ragazzi che scrivono in chat ti considerano un amico si eh Diego Diego concettualmente si si sentono più vicini a te che a Stefano Accorsi ok questo è quello che intendo ma chi se lo è mai inculato Stefano Accorsi hai capito quello che intendo lui è un Jason Momoa Jason Momoa ok ho preso Stefano Accorsi perché è un italiano ok certo che siamo amicizzati e quindi ti stuzzica di più pensare ragazzi ti stuzzica di più pensare alla tua amica che fa i bocchini piuttosto che alla porno star che fa i bocchini seriamente si cioè l'oggettivo è fatta la ragazza della porta accanto esatto è la sindrome della ragazza della porta accanto non è una sindrome è una è la sindrome sì allora sessualmente inteso forse è una sindrome poi non è una sindrome per davvero cioè non penso che nel DSM quarto o il quinto che dicono eh tu c'è la sindrome della ragazza della porta accanto beh potrebbe essere per lo stesso motivo per cui uno segue dei ragazzi su Twitch piuttosto che riguarda la tv poi da un professionista esattamente sì quello è è un rapporto più raggiungibile poi certamente vai giù se qualcuno si sega su di me io posso 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 dire scrivi di bocchino scrivi di bocchino scrivi di bocchino scrivi di bocchino tutto tutto che bab di merda via io io volevo fare i giochini nella vita io solo giocavo volevo non non invece no invece mi si secano addosso mamma io volevo fare i giochi sembra quasi realistico sto pianto fa paura grazie grazie capri porco addio nella vita ecco grazie capri per i 30 mesi pronto per il seghino perfetto grazie capri il grassatore ma la vendono il grassatore si chiama grasso distrutto il burro fai te eh no però spruzzabile come tu ti sei sbussato lo sgrassatore lo svito il tipo il footy 40 proprio esatto il footy 40 su cazzo vabbè fai non riesce a 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 credo vada forse è un po' troppo avete un po' di questo un po' di quello da testare dice rick sanchez comunque mi avete fatto venire in mente quel fumetto su gerry scotti che si chiama i my little pony non so per quale motivo voglio un fumetto incredibile un fumetto incredibile gerry scotti che fa l'idraulico entra a casa dei my little pony e fa il panico ma che cazzo il fumetto è voglio chi non conosce ecco questo è sempre un discrimine tra il boomerismo infatti se è il nome del fumetto chiedono in chat ma forse questo è più boh nicchia c'è proprio un'altra cosa su quelle cose sai tipo del borda fest invece che andare a lucca te ne vai a ah sì ho capito il borda fest quindi è tutta la parte indie underground underground dove fanno ste cose becere tipo Capitan Pugnetta che pure è un fumetto incredibile sborropipo sborropipo ma sborropipo era il lucca mi state trollando perché è Davide La Rosa no 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 sborropipo sborropipo anche un bel po' di anni me lo ricordo me lo ricordo già da tantissimo sborropipo erano delle strisce con questo protagonista che si chiamava sborropipo e il trope del personaggio è che lui diceva solo una parola che era no le seghe esatto diceva solo le seghe quindi era tutto un setup degli altri personaggi che dicevano parlando con lui per poi arrivare alla punchline finale di lui che fa le seghe e basta e poi applauso si si è esatto sicuro esatto c'era anche i fumetti della gleba mi ricordo che era più o meno stesso periodo che anche quello era in casa però io me lo ricordo molto meno potente cioè perché comunque con le seghe essendo solo quella punchline tiravi fuori qualsiasi argomento era sempre quello come ti ho detto era molto più un tormentone un proto esatto praticamente si 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 quindi mi state dicendo che noi nuove generazioni di pischieli ritornando al discorso di prima si poi generazioni di 17 anni si andremo a distruggere tutte le tutto lo star system perché se siamo più verso chi ci assomiglia chi è chi appicina a noi amico secondo me non si interessa più il divo il lavoro non stare eccetera ma la tizia della porta accanto il tizio che non esce mai di casa non c'è sta tutto il giorno attaccato con tu qualcuno no sono due cose diverse secondo me no secondo me andrà a distruggere guarda secondo me in realtà si stanno sovrapponendo basta pensare basta pensare come ti sono diventati pure più vicino gli eroi della tua infanzia che tecnicamente esatto è proprio la questione social in generale ma c'è pensa anche sì pensa anche un rock star comunque una star enorme del pop no prendi michael jackson prendi lady gaga ok lady gaga la senti più vicina al di là del motivo puramente anagrafico ok perché leggi quello che lei scrive su twitter che lei scrive sui social sul suo instagram vedi il suo instagram vedi la foto delle vacanze di michael jackson era inarrivabile irraggiungibile lo potevi vedere cioè la gente si accarcava sotto all'hotel per poterlo vedere da uno spiraglio della porta ok e oggi questo non c'è più adesso questa cosa è cambiata è cambiato proprio il rapporto fra il pubblico e il VIP secondo me avevamo forse divide Hollywood ancora ce l'hanno avevamo avevamo peraltro un discorso simile qualche live fa sul wrestling e su in generale i wrestler con le gimmick che avevano per esempio anche solo negli anni 80 e quanto e quanto effettivamente un po' forse secondo me questa cosa abbia fatto perdere ai wrestler odierni quel quell'atmosfera di mitologia che avevano cioè se te vedevi Macho Man Randy Savage o Hulk Hogan te l'immaginavi e forse anche erano così pazzi da essere effettivamente così anche loro nella vita reale però se poi vedi Macho Man che ti posta che ha magnato a colazione quella mattina perde quella magia non hai più la roba per me non c'è più quella roba là invece te Macho Man te lo immagini sempre vestito da stronzo come Dottor Disrespect esatto Disrespect quando si è visto senza tantissime persone avranno perso sicuramente l'attra vabbè interesse sì interesse già così però sì ci sta però è vero pure che oggi le generazioni nuove vogliono cercano quello attivamente sì magari se ci fosse stato Twitch negli anni 78 non ci sarebbe stato il mostro di Firenze eh oddio non lo so in che senso scusami non lo so gente della mia chat che non ho capito ogni tanto è tranquilla poi arrivate voi il martedì sera è uscita sempre Nico forse è rimasto impresso non lo so penso no ma quanto mancava la fine dei Green Hawks della quest? allora per me mancava il quello che avrebbe portato poi all'epilogo cioè la questione finale che possiamo giocare comunque in qualsiasi momento ok non alle 8 e 20 perché finiremo comunque alle 10 però che possiamo giocare Diego posso fare una richiesta a tutti i membri del qui presenti la settimana prossima che è l'ultimo appuntamento della stagione sì possiamo giocare dalle 7 sta cosa matta lo so va benissimo dalle 7 assolutamente sì dalle 7 onesto così chiudiamo cioè per me poi non so per Max non saprei per gli altri per me non è un problema io lo chiedo a tutti è il primo d'agosto esattamente chiudiamo così questa pantomatica campagna di Green Hawks così che il primo episodio della nuova stagione chiudiamo con l'epilogo di Green Hawks vi racconto cosa è successo a un mese ma questo è un problema grazie da quell'evento va bene così che lo facciamo proprio in linea temporale e non ci incastriamo in disco partiamo già dicendo ok adesso giochiamo cazzo allora la colpa allora però posso dire la colpa è pure vostra oh ricominciamo a mettere i puntini su lei perché se mi arriva boh ma arriva Diego che io sto con il manuale davanti dice ecco là sta con i compiti delle vacanze sento dei tuoni che cazzo ero ahia qua a posto qua è tutto anzi bello sereno un po' di scia e chimiche nel cielo vedo io e te abitiamo nella stessa città e mi sembra che non ci siamo a posto dei a posto per il ventilatore nel microfono no perché è colpa mia ma non è colpa mia abbiamo chiacchierato ma secondo me ci sta quando ci lasciamo andare poi non dobbiamo avere per forza non sto scherzando no 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 diceva la chat no nanzi si no non si è cazzato se comunque poi volete fare migrazione qua perché vi credete che è meglio è uguale quindi non è che si gioca pure qua siamo in contemporanea esatto allora ricominciamo a parlare di cinema no no però io voglio sapere di D&D perché il film è in me no no aspetta il film è io li definisco ormai i film carini ma non capisco perché vengono tanto sannati da determinati da determinate persone pubblico eccetera io non ho sentito così sannato no sì perché forse forse perché da un Dungeons & Dragons non ci si aspetta una merda Dungeons & Dragons che palle no invece poi è uscito a fare un film normale perché dopo il primo è ovvio che il paragone qualsiasi cosa sarebbe stato bellissimo voglio cioè capiamo il primo film di D&D Diego non so se l'hai mai visto ma infatti mi sa che è stato paragonato più a quello forse mamma mia mamma mia cioè quello è il periodo posso dire che è una perla del trash andando avanti cioè nel senso fa così cagare quel film che fa in cielo che però tutto però però non fa ridere però sai che non è brutto come Super Mario sì è vero è vero quello che vanno negli anni negli anni 90 quello storico quello stupendo film parliamo di Aircon allora io l'altro giorno ho visto che sarei voluto ricoprare non so perché sono un po' nostalgico lo sapete non perché so D'Azio Godzilla del 98 ok quello con Deeper Underground di Jamie Roquei sì come imported nella colonna sonora c'è una canzone di Jamie Roquei Deeper Underground no c'è anche Buffdaddy quello mi sa che l'ho visto al cinema quello lì ma proprio nel 98 sì sì è venuto Godzilla 1998 allora quel film là io da bambino vecchio perculiare mi ricordo come forma si era un varano gigante quasi quando vedessi non è un non è così la c'entra cazzo no infatti super chattone tra l'altro perché c'è super mentone proprio da super chat e mi ricordo che da bambino l'ho adorato un botto ce lo guardavo ce l'ho guardato mille volte era super affascinato che figata che bello è scoperto un sacco di cose che non sapevo tipo che l'attrice la protagonista insomma che che si innamora di tatatopoulos la papastatopoulos ma cazzo si chiama e ricercatore che scopre che le radiazioni hanno modificato gli animali nella polinesia francese ha vinto il premio come miglior peggiore attrice di quell'anno no un altro ancora ancora peggio del razzi award minchia è stata completamente distrutta infatti quando l'ho riguardato l'altro giorno ho detto c'erano delle cose che faceva veramente super cringe effettivamente ha preso ha vinto un premio di come peggiore attrice dell'anno poi ho letto della dei registi e dello sceneggiatore che avevano discusso sul seguito e ragazzi ho trovato il sequel di di gozilla che si chiama gozilla desiris ok è il sequel di quel gozilla del 98 che è un cartone animato a che bella cosa questa questo è un filo se lo cercate su google su youtube vedrete com'è fatto e praticamente sembra ben tena vederlo il figlio di gozilla che nella fine di gozilla si vede che c'è un nuovo era rimasto luogo citato cresce e loro e papà dopo lo stramme cazzo si chiama diventa il papà perché lo riconosce tipo ti voglio bene denver ma con gozzi bello poi all'estetica anche quella si è l'estetica di che lo chiede a sole va sullo skate questo è l'unico seguito che ha avuto quel così perché vogliono fare una trilogia però è andato di merda non l'hanno non l'hanno fatto ho scoperto che in realtà loro dovevano fare una dovevano mandare dentro un cinema per farlo visionare da delle persone per vedere sopra come sarebbe stato tipo si 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 non lo faccio io lo faccio lo fa e lo mandarono subito così al cinema per quel gozira che non c'entrava un cazzo i giapponesi l'hanno presi tutti per culo e hanno chiamato il gozira gino esigio gozilla e nei molli e niente ho scoperto tutte queste cose assurde l'hanno completamente anniglito e meri che il sceneggiatore tutti gli attori tutti distrutti e nel film ma l'hai rivisto diego ultimamente poi genti si è rifatto te una un'idea di come potrebbe essere sto film con il senno di adesso piuttosto che quando eri bambino esatto l'ho rivisto per quello ok è una merda rega hai fatto malissimo poi ha dei buchi di trama enormi non hanno senso delle robe che non sono inspiegabili che succedono nel film cioè non me lo ricordo proprio l'ho visto ai tempi è buona buona degli errori proprio di sceneggiature nelle cose che dicono o delle robe che non hanno senso per esempio tu immagina che loro sono dentro una base operativa c'è sta il sindaco tra l'altro pare lo dito di new york sta rifacendo le elezioni e sta lì che sta sentendo quello che dicono i soldati tutti quanti però non vede non ha che non è che vede il film quindi non sa quello che succede negli elicotteri c'è stato un elicottero che sbraga un palazzo e nessuno dice che aveva sbragato un palazzo rimangono tutti così il sindaco fa ma avete distrutto il chrysler building ma nessuno l'ha detto come fai a sapere cioè delle robe a casa ok poi vabbè vabbè tutto il film anche i cucciolini lì che nascono la e cominciano a mangiare il pesce che inspiegabilmente non riescono ad ammazzare nessuno stanno un metro di distanza tutto tutto completamente a caso stasera è cringissima animato dove crescono il figlio così la compuntate da quanti minuti sono da 20 minuti da cui vedono fatto anche un gioco per il game boy color oltre su più di uno più di uno c'è godzilla the series gioco per il game boy e godzilla the series monster wars per game boy sempre che poi infatti fu cioè è un film grosso da come me lo ricordo io c'è una cosa che è la madonna ai tempi 98 regà 98 sì nel 98 gli effetti speciali erano incredibili e poi era passato tanto tempo dall'ultimo godzilla occidentale doveva essere il lancio di un godzilla occidentale il problema è che non hanno fatto fa peter jackson e l'hanno fatto fa emmerick quindi un coraggio purtroppo a boia che ziggy ziggy boia cazzo quello sì che era un degno successore di gozilla ziggy era la risposta italiana a un trend di show televisivi che andavano di moda negli stati uniti con i pupazzoni che interagiscono con persone tipo barney tipo barney esattamente la risposta italiana barney ziggy e c'era ellen idding e un insospettabile alessandro cattelano giovanissimo raruto 18 anni ma aspetta che era il cugino del dal futuro alessandro capito ho capito allora andava su tele monte carlo no media set su media andava su che io mi sa che sto trovando dalla roba ziggy lo zigosauro lo zigosauro no ziggy non con la y ma con la ziggy e ziggy è scritto mi leggo la ente di wikipedia se volete ziggy era è stato un programma televisivo per bambini e ragazzi andati in onda dal 2002 al 2005 oddio no sono puntate complete su youtube sì sì c'è una con roberta l'antranchi questa è una iotobata stiamo rubando il content agli otobi ve lo dico a poi si questa questa è 100 per cento gli otobi ci farà una roba su questo 100 100 e quando viene qua karim ziggy era il nome del pupazzo con le sebianze di un dinosauro chiamato zigosauro che proviene dall'isola di comodo tra l'altro mi fa ricordare zigosauro che era quella cosa quella sorta di bastone non so mai capito che cazzo era una gambasola era un verme ma a proposito di dinosauri pupazzi era un voi c'è caso usciva da una mela spesso voi ricordate una serie che io ho questo 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 ricordo qua di una famiglia di dinosauri pupazzi aspetta quella è bella riga che mi ricordo che me la vedevo anche spessissimo che c'erano tutti i dinosauri verdi e c'era il bambino dinosauro rosa si chiamano solo i dinosauri bella che c'era il dinosauro babbo con la camicia di flanella da babbo americano no da padre americano troppo ride era praticamente otto sotto un tetto versione di dinosauro esatto era una sit una family sitcom coi dinosauri con i dinosauri pupazzi e lui si chiama o porca troia il film è un film è una serie tv è una serie pappa e ciccia si 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 come cazzo si chiama fanno solo lui per uscino no non è gioco ho trovato pappa e ciccia a film di neri parenti con lino bambino anche quello che c'è c'è il film con villaggi e bambi si pappe ciccia che con milly carlucci lui protagonista di pappe ciccia serie è quello che ha fatto fred flinston nel film del film scusa è un fenomeno rica bella babbo 10 stazioni che fa paura non so se conoscete kelly smith quello di generazione x mollrads quello dei commessi clerks ok hanno fatto un film ha fatto un film horror nel attorno al 2005 si chiama red state che fa paura tutto girato con canti 5d mark 2 è un film horror incredibile ve lo consiglio e ha fatto il secondo che è task che è zanne altrettanto incredibile consigliatissimi se vi piacciono gli horror ma non quelli jump scare sì task non esistono è quello non è jump scare quello è tutto politico tutto religioso no comunque cosa mi ha detto vengo da dada per dirti che mi hai fatto ricordare una cosa orrenda sto facendo partire una denuncia vabbè anche cattelano oltretutto mi ha detto far blanca si vergogna tantissimo per quel ruolo che ha avuto nella è comunque pappeciccia vede protagonista la famiglia conner tipica famiglia della classe medio bassa statunitense la serie riuscita a fondere da comicità e dramma toccando temi come povertà obesità femminismo e omosessualità giusto per ovviamente pappeciccia ovviamente nome italiano perché in realtà nella serie si chiama rosen perché la protagonista è rosen bar ok bella bobo questa cosa a nove stagioni e hanno fatto un revival nel 2018 decima stagione inedita in italia cazzo e considera che tipo il tizio che fa the big bang theory leonard faceva il ragazzo della figlia è la prima volta che lo vediamo in serie televisiva il tizio la spazzo alan parson al lavoro alan parson leonard tornando a gozilla ragazzi l'ultimo l'ultimo come si chiama quello di anno che è uscito cingo zilla john gallecchi quelli che hanno rifatto e invece mi è piaciuto anche king of the monster l'ho vista c'è ma che non ricordo quello il primo il primo cosilla dopo quello del 98 occidentale mi pare quello con brian cranston sì sinceramente non mi è dispiaciuto a time l'ho visto pro time è recente coso pappa e ciccia l'ultima stagione appunto era del 94 cioè si parla di quando c'era 14 anni io ce n'avevo sai è già grazie diego anche io ti dico che anno sei 88 tot però ecco ecco questa anche questa cosa no una volta tutti sorpresi quando vediamo questi cazzo di colosso perché usciva uno ogni morta di papa fatto sempre lo bingberg va bene che poi arrivato purtroppo peter jackson dopo un po c'erano pochi che facevano sti così che c'è una delle produzione enorme tirano fuori questi questi cazzo di dinosauri lo squalo ma io mi ricordo ancora in indipendente come se fossi ieri ma indipendente erano tutti questi qui erano tutti film e adesso adesso non ce ne frega più un cazzo perché ne escono ogni 5 minuti che coglioni vero ma questo è il problema del life comunque tu oggi devi mantenere l'altezza alta spendi miliardi per il film che in realtà fanno pagare ma che su tutti uguali è un film evento 3 dimmelo degli ultimi dieci 10 anni vabbè dai endgame endgame o quella endgame è l'ultimo giusto della del ciclo giusto quello è stato effettivamente un film evento ecco per esempio tutti dicono c'è stanno tante persone barbie è stato abbastanza film evento si però di un giorno lo vedi perché di un remake perché rifatto eccetera ma mad max uguale io me lo ricordo per il max poi è stato esaltante ma dici il fiori road o dici il vecchio fiori road principalmente cioè io me lo ricordo come evento perché fiori road sì ecco però magari non è stato ma come non lo è stato neanche sempre parlando di villev blade runner quello lì cioè era un mezzo evento anche quello però non non ha attecchito non ha tra l'altro eh lo so io per colostare intendo proprio vabbè una volta ce n'erano pochi cioè uscivano e tutti tutte le sale cioè tutte le persone impazzivano e parlava solo parlava solo adesso sì vabbè cioè ci stanno tutti i film della marvel che hanno praticamente monopolizzato quel settore lì ma guarda ti dirò adesso non c'è non fanno più neanche così nel caldo cioè sembra che ti escano mi rendo conto che non hanno fanno più il clamore che facevano un tempo però c'è un film della marvel come se fosse uscito non lo so è una puntata di una serie esatto ho trovato i come si chiama i film per decade che hanno in teoria incassato di più no ok e siamo a quel top 2020 quindi siamo tre anni allora abbiamo primo posto a quanto pare spider-man no way home ok anche quello è stato abbastanza evento maverick sì ok terzo avatar anche se io non lo so ho sentito hype per avatar però avatar 2 way of the water quindi credo sia ok ha fatto un miliardo e sette ecco uno che secondo me è stato evento da come l'ho percepita io che al quarto posto film di super mario quello della nintendo anche quello un bel film animato certo ecco uno della pixar i film della pixar sono abbastanza evento cioè la gente già sta per uscire un film della pixar che non ne cacano uno al mese e quando quando esce comunque attira l'attenzione della del pubblico come i film del ghibli o come i film di nolan se andiamo nella ovvio i primi cinque o quel di anderson ma quello magari più se andiamo tipo a dieci anni fa quindi top della decada del 2010 il primo è forse qua possiamo parlare effettivamente di colossal the force awakens star wars cioè quando è la nuova tecnologia effettivamente tutto quello che ha creato il nuoto star wars che è stato allucinante avvento avvento game 2009 50 ci stanno solo film marvel al 90 70 per cento sono quelli leggere qua vedo star wars avengers black panther avengers infinity war jurassic world al quinto posto marvels di avenger star wars the incredibles 2 re leone il film e roguana animato e poi roguan ne sforrano un all'anno ma porco devono sempre un miliardo di dollari ma che cazzo così fidelizzano disney marvel 80 per cento dei dei top seller sono loro due è quello che diceva bob c'è presente la marvel fa quello che tocca fa su tik tok ovvero prendere un uomo formica non non capisco quella parte perché parlano di quella cosa del dottor strange perché poi dottor strange mi parla di quella cosa la e quindi quando mi guardo l'uomo ragno che magari quello che mi interessa mi perdono le cose perché non ho visto l'uomo formica tipo anche kingdom hearts che andava a giocare gioco per cellulare per coprire per recuperare il gioco è un po di un po diverso è abbastanza importante fruscianti mi ha fatto capire che ha più senso insegnare gli astronauti a trivellare che dei trivellatori essere astronauti parla di armageddon cioè gli americani cosa fanno invece di dire prendiamo degli astronauti e addestriamoli a trivellare prendono dei trivellatori e gli insegnano a essere astronauti america appunto c'è un poco tempo secondo te è più facile insegnare a trivellare degli astronauti cioè è più facile imparare a trivellare o imparare è più facile essere minatori può essere astronauti non lo so sono solo che l'uomo è difficile di ecco ci vuole un pezzo ci vuole un adestramento un po più impegnativo vabbè ma quelli erano aspetta lì erano già allenati cazzo cazzo ma a trivella in mezzo all'atlantico tra in condizioni depreghevoli non erano astronauti vabbè ma l'astronauta che cazzo deve fare deve girare velocissimo pronto 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 a posto la centrifuga se sopravvive a posto se fanno la stessa cosa per i porno penso che un casino che tutte le serie tipo adriana ceci che fa un porno su che cazzo sono youtube a proposito di trivellare dici sì di trivellare e di serialità interconnessa no voglio vederti quel porno per capire cosa succede a pazzesco johnny sins chi si è chiamato l'altra volta che adesso non capisco chi è questo johnny sins fa il dottore lui cioè lì cosa fa una la malattia a questo che in realtà è l'altro film sarebbe pazzesco volete i brothers cinematic universe il pelato è ovunque il pelato è l'equivalente il brother cinematic universe johnny sins fa iron man che sta in tutti i film in tutti i film però non capisci perché dove iron man e dove è dottor strange all'improvviso sborro è così ok max se volete in italia invece la classifiche dei primi roma cosi ho trovato su movie player punto it film con maggiori in classe in italia però non è per anno per decada in generale proprio quello in assoluto ok che cosa la prima primo posto è avatar a ok ci sono internazionale peso solo finita è anche internazionale però secondo posto in assoluto quo vado che cosa ne sapevo benissimo questa cosa una sola catinelle che cosa l'ora sì 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 erano i film di capodanno cioè nella top 5 ci sono tre di che cosa l'one sulla catinelle tolo tolo al quinto posto titanic in mezzo al quarto posto il primo quello e titanic 97 esatto sì sesto che bella giornata che cozzalone settimo avatar non so perché vava da così tanto avatar in italia avatar potentissimo il primo avatar fu un film evento ma avatar parla dei dei sitizi che vanno a romper cazzo su un altro pianeta c'è un pochino attecchisce la nostalgia all'interno degli italiani però ok il re leone comunque però 2019 non era leone classico boia ok non ho posto la vita è bella di benigni e ci stava ci stava posto alice nel paese delle merviglie del 2010 quello di di barto che me l'ho mai detta la storia allora mi raccontata la la storia di della mia visione di questo film no prego niente che io dovevo andare con sta ragazza che però non era una ragazza con cui ci stavo provando era un'amica con la quale avevo un buon rapporto e niente prenotai presi i biglietti i biglietti per andare che dici no dico dicono tutti così quando poi ti dicono di no no ma era un'amica e non ci stavo provando fermo però e niente presi i biglietti andai a barberini dai castelli fino a barberini era lontanissima non viaggio poi feci anche sega a scuola tra l'altro arrivai la aspettai non so quanto tempo perché è arrivato un botto non è mai arrivata a fine sono entrato nel cinema da solo super depresso inizia il film no non rispondeva neanche più nessun nessun sul telefono inizia il film 20 minuti va via la luce nel cinema ci rimbordano il biglietto torna a casa ancora perlomeno e lei mi scrive dopo tipo tipo quattro ore no scusa come sono addormentata non mi sono andata la sveglia a che ore erano scusa perché era la mattina era andato alla mattina si tipo allo spettacolo ha sabotato lei in cinema per non venire al vedere alice comunque guarda diego ti sei scrivato un proiettile non con la ragazza ma con il film nonostante avessi visto venti minuti di film non ti è iniziato a puzzare di merda hai detto forse è meglio c'è un jogger vedo nella classifica male ma giochi con hockin phoenix è l'unico gioco ma c'è vero sì ma c'è la leggera perché l'altro si chiama quello di codice da vincere il sedicesimo mattone dei gays battone così e di misura vero finisce come riuscire maneggiacomo diciassate manco cinza e poi qua stiamo arrivando alla crema natale sul nilo diciottesimo io non posso dire io l'ho pagato questa questa classifica è falsata perché natale sul nilo non in generale tra tutti i film di natale è quello orribile si progettivamente è stato quello di più successo vacanze di natale 95 e fra ma non può far confronto c'era luke perry le signorine si bagnavano sono andate a vederlo avete andato a vederle tutti quel film era incredibile quel film era incredibile comunque barbie sta a 7 milioni e 7 nella prima settimana sì sì no barbie sta bellissimo l'estate nessuno va al cinema c'è la ricondizionata fra cioè in quale posto migliore dove andare se non al cinema sta al doppio di openheimer è normale perché openheimer e vm 18 e openheimer soprattutto non è uscito in italia no no in simultanea in molti paesi anche un po pesantino dei barbie ma stiamo confrontando un film per tutti con un film vietato ai minori insomma normale cioè non sbiglietti la metà bisogna contare l'inflazione via col vento si mangia qualsiasi film hai fatto davvero c'è da tenere conto anche di quello comunque allora subito dopo natale sul nilo il ciclone ventesimo benvenuti al nord benvenuti al sud ha fatto di meno non rimane anche quello ovviamente sotto sotto sono benvenuti al sud è un remake di benvenuti al nord no benvenuti al sud è un remake di giù al nord giù al nord a me il ciclone piaceva un botto il ciclone io me lo ricordo anche con una bella gioia c'è un cazzo italiano ormai che cazzo per forza se lo riguarderai adesso si mette direi che merda no no ma vabbè poi sono toscano poi sono toscano per me nei printing quello è amici miei cioè io non penso che esista un toscano che non sa memoria le battute c'è che entri un po se fai buonasera a tutti spagnoli e non c'è tutti lo sanno c'è c'è la gratte vicide c'è c'è anche nel ciclone ci sono delle delle cose storiche cioè la scena rappresentativa di tutti noi di ceccherini nella bara che dice facendo dei biscottini dice so che non me ne scoprerò nemmeno una quindi per questo la verde rame con quell'oggetto che rappresenta si è lei una ramachina mi è piaciuto sotto c'è stata una spinta di cose veramente abbiamo scusa un attimo dice il 6 per cento degli spettatori è andata a vederlo perché barbie era sold out ah quindi come ripiego ripiegone capisci come dicono i napoletani se tu mi vuoi bene esatto ci abbiamo Pinocchio di Benigni ok al ventunismo posto Pochi d'artificio di Pieraccioni altro film bellissimo quello non me lo ricordo invece quello mi sa che non l'ho nemmeno visto è precedente al ciclo Pochi d'artificio no i laureati il primo il ciclone il secondo il terzo ok ci sta mi puzza però ma dove sono i film della marvel beh c'era un endgame all'undicesimo e gli altri boh stiamo andando giù adesso c'è un star wars il velo della forza subito dopo Pochi d'artificio ok inside out della disney harry potter la pietra filosofale il primo madacascar 2 il paradiso all'improvviso Pieraccioni natale a rio natale a new york natale in crociera tutti visti tutti quindi parte dell'incasso sei te anche e vari stercogliene sinistra né stercoglione destro mi ricordo pure tra il torresimo posto i minions comunque io l'ho sempre detto bisogna fare uno spoglio ufficiale del cecchigori cinematic universe e lì va giù si vedono delle cose incredibili eh il problema è che non c'è più il cecchigori cinematic universe eh lo so però tu metti un film come scuola di ladri come scuola di ladri oh beh cazzo eh sì comunque mi hanno mandato in chat me l'ha mandato Federico sì sì una foto del pisello ma a parte quello mi hanno mandato un link eh i film che hanno incassato di più nel mondo però corretti con l'inflazione ok cioè quindi quanto costava vivere cioè capito quanto costava vivere all'epoca in cui è uscito il film quindi il peso del biglietto era diciamo il primo è via col vento via col vento che ha venduto 202 milioni di di biglietti più di 202 milioni di biglietti nel 1939 poi c'è stato una nuova A New Hope Star Wars il quarto quindi il primo Star Wars nel 77 esattamente poi The Sound of Music che dovrebbe essere un musical è tutto insieme appassionatamente esatto è tutto insieme appassionatamente e Till extraterrestre dell'82 82 ok Titanic ok i 97 i Dieci Comandamenti del 56 ah ok Lo Squalo ok 70 75 il Bergone lo vedo bello al gamba attesa sì sì e lo Squalo subito è il Pieraccioni non c'è il ciclone purtroppo dottor Zivago all'ottava posizione l'esorcista del 73 quindi lo storico l'esorcista così grosso è stato 110 milioni di biglietti ha venduto ragazzi io purtroppo lo Squalo l'ho provato a rivedere l'altro giorno ti giuro non si trova col doppiaggio originale ho letto un botto di gente incassata proprio come viene devi trovare il DVD perché l'hanno rifatto eh sì bravo no ma tra l'altro nel Blu-ray ti danno entrambe le scelte però ti danno entrambe le scelte ma nelle piattaforme non c'è la doppia scelta e quindi devi succare il doppiaggio nuovo che eh sì cioè piacerà sicuramente a chi non l'ha visto con l'originale quello sì io mi sa che me lo son visto solo col doppiaggio nuovo quindi non ho idea del doppiaggio originale purtroppo l'ho visto l'hanno rimasterizzato col doppiaggio nuovo e non rende come quello vecchio vabbè io ormai penso da un imprinting quindi non riesco a guardare ma magari percepisce anche la discrepanza qualitativa fra le immagini che vedi e il doppiaggio è vero il sonoro sì ma secondo me bisognerebbe farlo vedere uno che non ha mai visto l'originale comunque decima posizione Biancaneve e Sette Nani il film quindi un film d'animazione in top 10 del 37 vabbè arriva fino alla 50 però Avatar è quindicesimo ok quindi Avatar è il primo Marvelone il primo allora Star Wars Force Awakens undicesimo è subito dopo Biancaneve la carica di 101 un altro Star Wars l'impero colpisce ancora Ben-Hur Avatar Avengers Endgame alla 16 posizione quindi comunque che ha venduto 95 milioni di biglietti io mi domando però quindi meno della metà di via col vento guardando questa cosa che ha trovato Max lo sto andando giù tantissimo c'è sta Endgame che è uno dei più con i più incassi d'Italia ma tutti gli altri film della Marvel ma do cazzo stanno già andando a vedere Endgame senza sapere niente di di tutta la storia della saga in effetti è vero ti aspetti che il sequel ma molto probabilmente non l'hanno vista al cinema io l'ho visto per esempio io sono andato io ho visto Endgame tipo la mia ex ha visto Endgame ha visto gli ultimi film del quel ciclo di Marvel Cinematic Universe però avendo recuperato tanti film in on demand o in B.U.D. Iron Man 3 99esimo 16 milioni basta ma è normale perché ancora ai tempi di Iron Man 3 non c'era la cosa del Marvel Cinematic Universe non c'era l'idea di dire che è una serialità è tutta una cosa legata cioè la gente ha iniziato ha iniziato a a dirlo ha iniziato a inscimmiarsi con l'onda che stava arrivando con l'hype che stavano arrivando con Endgame e ha iniziato a sperare tutto il resto non ho capito non ho capito non ho scusa mi dico questa cosa di Mixed Voyage non ho capito no le hanno pirata di tutti ho scritto ah basato un poco volto comunque avatar primo 65 milioni secondo quavo vado 65 milioni a proposito sono è potentissimo 65 milioni sono praticamente gli abitanti c'è stata in Italia vuol dire che hanno pagato il biglietto un euro no eh sì però non è che sono andati tutti al cinema no vabbè ovviamente non so tutti quanti però so praticamente tutta la popolazione italiana eccoci un originale davvero ce l'hai io ci sono vissuto in quel territorio cioè dove c'è musica hai capito una bella cassetta di Ramazzotti Ramazzotti ok la dimensione ideale per un ascolto pulito mi spiega i cd ce l'hai no i cd no ma quelli non sono usciti dai galera stanno lì in giro sì si lavorano anche perché sono sul sono appaiono nel film alla scena finale sono i tre avvocati della no sono i pm durante il processo sono loro sono i fratelli come si chiamano il cognome esatto sono loro cioè quelli che giudicano i fratelli frattasi del film sono i veri fratelli fratelli frattasi esatto e mo e mo scusate ma fa paura ma stai cercando stai scherzando no non sto scherzando è vero sono loro beh è il bello del racconto di Sidney Sibilia è dare un corredo completo a tutta la cosa hai capito quindi loro sono stati a parte non è spoiler perché non ha visto il film cioè si vede nel primo secondo che lui va in prigione quindi si 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 ah boh pure perché piratavano sono stati le artichette discografica più grande in Italia in periodo storico molto specifico ma pensate eccoli e mo che fanno è bellissimo cosa fanno scatolificio scatolificio sì in realtà Harry ancora fa le serate sì fa il genere perché ho fatto ho fatto un reel dove cercavo di pagare il biglietto del film con la cassetta quindi capito piratando il biglietto del film e non mi hanno fatto entrare e quindi ho dato i soldi l'ho condiviso con questo sono diventato amico siamo incominciati a scrivere su Instagram e mi invita alle serate dove fa il DJ a Napoli poi andiamo insieme eh sì si deve andare che quello è un tizio fortissimo comunque comunque ritornando al discorso in cassi allora a parte i primi quattro c'è Tolodolo del 2020 che ha fatto 46 milioni e vabbè 2020 vabbè cringe Avatar 2 ha fatto 41 milioni e settimo no è il 2020 che è un anno cringe mico non l'unico l'unico che ha fatto c'è vabbè Joker 2019 29 milioni però di recentissimi non c'è stancato tipo negli ultimi tre anni non c'è un cazzo che siamo sempre in Italia il paese dei pupazzi perciò poi sono tutti i vecchi gli altri 2001 Harry Potter Madagascar fuochi d'artificio e non c'è Shrek cioè tra le altre cose non vorrei Sino degli Anelli Ritorno del Re boh cercare i film più costosi bello come rabbit hole questo ci sta il film più costosi di tutti i tempi un po' è Endgame Endgame sicuro o Rentoportento benvenuto bello Rentoportento che fino a mo' hai fatto i jodi con la cintura e adesso sei venuto qua film più costosi Avatar 360 milioni di dollari Pireni dei Caraibi 370 Endgame Fast X 440 milioni di dollari John Carter John Carter di Marte ho capito qual è quel filmino là sì 2012 ma è divertente il cazzo Rapunzel è costato 260 milioni ma com'è possibile è perché falli tutti i capelli della tizia e non sto scherzando sì ammazza un milione a capello ma guarda io ho visto un documentario dove facevano vedere gli animatori in Monsters & Co dove animavano i singoli capelli di Sullivan va giù era una cosa incredibile ogni seconda ogni frame era un milione un milione e mezzo di peli che si dovevano muovere in perfetta armonia cioè è una cosa assoluta comunque con l'inflazione in realtà è Cleopatra la prima del 63 ok io beh dice via col vento no ma più costoso più costoso più costoso ok ok più costoso mentre come conseguenziale lo Hobbit vabbè sono tre film trilogia Avengers Infinity War in the Game invece 656 milioni non hanno mai speso un miliardo per fare un film però no non ancora e credo che non li spenderanno mai chiuso soprattutto se non ho speso un miliardo per fare come si chiama Rings of Power in teoria tra una roba era la serie però non era era una serie la puppata di soldi gigantesca che Amazon ha tirato in Rings of Power è stata quella ma poi spendono tutti questi soldi e mostrano in protesta agli attori e gli sceneggiatori perché non pagano gli pagano pochissimo e Dio Cristo è perché pagano tutti il resto cioè parliamoci chiaro cioè se tu paghi 10 euro una comparsa e soprattutto a voi scansionate e non pagarla mai più te so che devono fare quelli si devono stare zitti si devono beccare 10 euro per una volta e mai più li devono vedere ah fanno bene infatti non so di che sia la mia no 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 so di Cristo Dio cazzo cacciassero i soldi pure per loro no? eh diciamo che in questo caso il capitalismo è un attimo più imperante di così cioè adesso cazzo infinito infinito in questo momento così tipo dovunque sia staggirando le orecchie ok raga ma una volta i colossali tipo Cleopatra erano veramente colossali cioè costruivano città ecco vero c'era anche una cosa più diversa qua a Roma c'era cinecittà è incredibile sì però capito costruivano effettivamente una città adesso invece mettono un green screen sì l'ultima cosa che hanno costruito davvero non perché ci ha lavorato Florinda ma effettivamente è stata l'amica geniale che hanno ricostruito tutto un quartiere eh capito anche i mixed bagnari mi sa che hanno fatto una roba del genere molto meno penso abbiano girato hanno no no hanno costruito pure alcune cose cioè tutti i laboratori comunque li hanno dovuti ricostruire o i ledwall esatto però è ovvio che non hanno ricostruito tutta una città hanno sfruttato comunque delle cose esistenti cioè il palazzo napoletano più famoso di tutti i tempi perché è lo stesso palazzo che sta in tutti i film ambientati a Napoli è quello che si vede frontale con le scalinate che c'ha questi grandi buchi dove vedi salire e i balconi giganti al centro è il palazzo napoletano per eccellenza da si si ma sono napoletano della storia per scrivere in maniera che si è fissato di cinema così ok matrix 3 avevano creato una autostrada a final fantasy quello che ho visto al cinema da ragazzino a fai spirit within a dici spirit within o quello dove c'era di final fantasy sta roba quello era il periodo in cui compravano il nome della cosa dell'ip del brand e facevano il cazzo che volevano quando partirono le voci che stavano facendo un film su final fantasy tutti pensavano che avrebbero fatto un film su final fantasy 7 milo su marte ma cos'è milo su marte meno male che è arrivato il 2023 la gente ha cominciato a capire che effettivamente queste cose poi si possono fare la metà del C-flop l'ho visti tutti quanti e mi sono pure piaciuti ma quello non vuol dire che tu sia una merda però attenzione no no raga l'ho visti battaglia per la terra oddio questo qua era film allora battaglia per la terra è terribile è brutto in culo ma non posso dire che ci abbia un certo fascio a me col John Travolta tutto dread col barbone coi cazzi nel naso ricordo che da piccolo me lo guardavo anche con piacere c'era qualcosa che mi piaceva in quel film di merda adesso non me lo sono nemmeno mai più rivisto a posteriori però da piccolo ricordo che c'era qualcosa sono uguale siamo d'accordo che sono John Travolta con quei capelli però diciamo che ragazzi c'è un film del 2019 che si chiama Ketz che tutti mi ricordo su internet iniziavano a dire madonna che schifo orribilante perché erano troppo erano in quella uncanny valley di persone pro gatto ma erano di questa roba sì esatto ma nemmeno perché non sono cioè non sono troppo gatto non sono neanche troppo persone era un po' tipo il il Sonic prima che si incazzassero tutti di dire che l'avevano fatto troppo riccio vero quindi c'era questa bovinio però battaglia per la terra non è tratto da un romanzo complottista ma da un romanzo del signore che ha fondato poi e Abbard era esatto Scientology è bello vabbè complottista cringiologi musical in marcianese ci stava Songhe Napoli dei fratelli come cazzo si chiamano quelli che hanno fatto la serie con gli andro quelli che facevano i video degli 883 o cazzo aspetta quelli che hanno fatto no i manetti i manetti esatto hanno fatto due musical uno è Songhe Napoli che è bellissimo secondo me e l'altro sempre con Gian come cazzo con Leandro no con Paolo come cazzo si chiama lui Morelli Gian Paolo Morelli e Serena Rossi un'altra storia musical ambientata a Napoli incredibile ecco a me questo genere di film fatti con una cura come se fosse negli anni 70 mi fanno arrapare i finti poliziotteschi i manetti bros tra tutti a me con Leandro piace un po' come serie poi vabbè Bologna vedevi l'inseguamento in piazza maggiore e dici ma che cazzo però era proprio quello il fascino che dici tipo roba pesissima già di che si spara sotto casa mia e dici ma che cazzo sto guardando però era bello perché era un po' trash un po' vera come cosa con un personaggio con un personaggio secondo me tanto assurdo quanto incredibile troppo bello non so di cosa state parlando guarda l'ispettore Coliano sicuramente lo vedevamo è Diabolic lo sai che a me non è piaciuto tantissimo tutti hanno fatto anche il film di Diabolic hanno fatto secondo me un ottimo lavoro di impianto ma poi la regia e il film effettivamente è una merda cioè personalmente l'impianto è bellissimo non l'ho visto neanche io sta su Disney Plus sappiatelo va bene eh va bene ok si è fatta una certa si è fatta una certa dai si è fatta una certa anche oggi abbiamo fatto il nostro Kinox è stato divertente è bello beh tecnicamente stiamo facendo sempre di più i vecchi di merda che si lamentano in real life va benissimo cioè è efficace quello sgrassatore copp è la spesa la copp sei proprio un altro locale no è perché in Toscana c'è solo quello come c'è solo quello la cooperativa perché c'è questa mafia sempre è l'unico posto in Italia dove la copp è ancora attiva la Conad qua non c'è ad esempio io non c'ho la Conad qua c'è la qua in Emilia è la guerra Conad Copp qua c'è sta qualsiasi cosa copp è S lunga c'è anche il Pérex che non ho mai sentito prima eh what prima di Frantino il criminale mai sentito questo supermercato ma stai scherzando il Pérex zero ma tu sei pazzo scusami come a Milano c'è il LUT2 che mi ha sempre fatto rito adesso ti entrerai in testa che non ti la toglierai in più e parte Elevation tipo capito la senti si si aspetta però mi sa che non è questa non è questa non è questa aspetta ma no tanto io resto qua al computer ancora un po' te la devo fare in testa così non te la togli più forse è questa Diego io so dove abiti però per chi? non credo eh no dico no non era non c'è ragazzi vabbè vabbè faceva Pérex 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 na 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 Pérex Pérex la passano sempre alla radio Cristo Dio che cazzo è sto Pérex non l'ho mai visto è un supermercato che esiste in tre in tre tre punti di Roma basta ho capito è una roba tipo i supermercati trentini a trento che c'è solo a esatto esattamente come no no mica mica stanno a giocare figurati esattamente va bene siete bellissimi e fantastici ci vediamo quindi lunedì martedì grazie il primo agosto no quel grasso era per un'altra cosa facciamo alle sette alle sette dai ricordiamo su telegram che se riesco e niente ciao Nico un saluto a tutti quanti ciao 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 ciao